Si riscopre oggi la figura di quello che è stato un eroe nazionale in Messico e lucchesi di origini, Luigi Ghilardi, un combattente per la libertà e grande amico di Garibaldi. È veramente una riscoperta straordinaria che non va da sola, dal centocinquantesimo delle celebrazioni dell'unità, veramente si sono riscoperti tanti Garibaldini che sono stati il nesso tra l'Europa e tanti altri mondi, in particolare l'America Latina, anche l'America del Nord. È un bellissimo risultato di celebrazioni che in questo modo non rimangono vane. Credo che Ghilardi sia proprio rappresentativo, da quanto ho sentito oggi, dell'animo lucchese, forte, coraggioso, repubblicano, molto impegnato e è una figura che era scomparsa dal mondo proprio del risorgimento. La riintegriamo anche per celebrare questa grande amicizia dell'Italia e del Messico, passata poi in un periodo successivo dal contributo dato da uno dei Garibaldi, Peppino, al regime che tentò di instaurare di democrazia e di repubblica, Francisco Madero. Dunque una bella storia che si prolunga nel tempo.